Perché esistono gli italiani senza cittadinanza? Una comparazione tra Italia e Germania. Per rispondere a questa domanda dobbiamo prima chiederci un paio di altre domande. Così il Movimento Italiani senza cittadinanza. È stato fondato nell'ottobre 2016 da giovani cresciuti in Italia. Hanno organizzato dei flash mob Fantasmi per Lecce in città diverse in Italia. Era in occasione dell'anniversario del voto della riforma della Lecce sulla cittadinanza alla Camera. Perché c'è il Movimento? La Lecce 91 del 92 non rispiega l'autorità dell'Italia di oggi. È difficile acquisire la cittadinanza italiana. Molti sono considerati italiani col permesso di soggiorno, sebbene vivono in Italia da tanto tempo oppure sono cresciuti in Italia. Perciò un gruppo di giovani si è unito nel chiedere una legge 91-92 più aperta. A che punto è la legge? La legge numero 91, indicata come legge 91-92, prevede solo ius sanguinis, che viene dal latino e significa diritto di sangue. Un bambino nato da genitori stranieri, anche se è nato in Italia, può chiedere la cittadinanza dopo aver compiuto 18 anni e aver passato questi anni in Italia legalmente e inaltorattamente. Una nuova legge? Adesso una nuova legge in attesa di essere esaminata dal Senato. Espande i criteri per ottenere la cittadinanza soprattutto tramite due nuovi criteri che si chiamano ius soli temperato, che significa diritto legato al territorio, e ius culture, diritto legato all'istruzione. Lo ius soli temperato prevede che un bambino nato in Italia diventi automaticamente italiano se almeno uno dei genitori vive legalmente in Italia da almeno cinque anni, ma se i genitori non vengano dal UE, altri criteri devono essere soddisfatti. Lo ius culture prevede che un bambino nato in Italia o arrivato in Italia prima di avere dodici anni possa chiedere la cittadinanza se ha frequentato una scuola italiana per almeno cinque anni e ha superato almeno un ciclo scolastico. Un bambino nato all'estero che è arrivato fra i dodici e i diciotto anni può chiedere la cittadinanza se ha vissuto in Italia per almeno sei anni e ha superato un ciclo scolastico. Come è la situazione in Germania? Il diritto di terra si chiama lo ius soli e unisce l'acquisizione della cittadinanza con il logo di nascità. Lo ius soli viene chiamato anche principio di nascità. La legge in Germania è in vigore dal primo gennaio 2000 e funziona solo per cittadini stranieri nella UE. Per ricevere la cittadinanza tedesca ci sono condizioni da soddisfare. E' cittadino tedesco chi nasce in Germania se almeno uno dei genitori risiede legalmente in Germania da otto anni ed è cittadino dell'Unione o è in possesso di un permesso di soggiorno o di un permesso di stabilimento nell'UE. Quando il bambino raggiunge i 18 anni deve scegliere tra la cittadinanza tedesca e quella straniera ma dal 2014 la scelta non è più necessaria per i bambini che abitano regolamente in Germania. Per stranieri fuori dell'UE c'è la possibilità di naturalizzazione con più condizioni da soddisfare come un esame di lingua eccetera.